In provincia di Alessandria, grazie alla Lavva e alla Leal, sono stati sequestrati pinguini e pellicani al circo Colbert. Gli animali sono stati trovati in una situazione di sofferenza e detenuti in modo non idoneo alle loro necessità. Sono stati quindi trasferiti in una struttura in grado di accoglierli adeguatamente. Purtroppo sono invece rimasti al circo serpenti e un povero canguro costretto durante gli spettacoli ad esibirsi e percorrere la pista legato alle briglie.